Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Io scampata al mio ex che voleva uccidermi alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la sconvolgente testimonianza di Lidia Vivoli, sopravvissuta 11 anni fa a Palermo, a un tentato femminicidio. Agrigento ancora sotto shock dopo il suicidio del noto imprenditore Alberto Re, i familiari attaccano i social per i posti offensivi contro l'uomo. I tentacoli della mafia sulle scommesse sportive, Maxi sequestro di beni a Palermo, nei confronti di due imprenditori ritenuti vicini al clan di Pagliarelli, Porta Nuova, Brancaccio e Noce. Davanti alla commissione nazionale antimafia che si occupa della strage di Via D'Amelio, l'ex magistrato Antonio Di Pietro. Gli affari di Cosa Nostra e Tangentopoli ha detto due facce della stessa medaglia. Sicilia verso un fine settimana tra freddo e neve, sui rilievi l'Etna imbiancato regala cartoline per i turisti, mentre si apre una lieve attività esplosiva. Sconti pazzi è il giorno del Black Friday, nelle vie dello shopping caccia all'affare, ma sale la percentuale di acquisti online. Calcio Catania-Giuliano per ritrovare il sorriso anche in trasferta. In Campania, Lucarelli conferma la difesa 4 domani al San Filippo, il Messina sfida la corazzata Juve Stabia. Ben trovati, adesso vi raccontiamo in apertura una storia, ce la racconta lei, una sopravvissuta a un tentato femminicidio. Le immagini di quella notte terribile sono ancora assolutamente indelebili nella sua mente, il suo racconto è certamente una testimonianza scioccante. Il racconto è di Lidia Vivoli, ha raccolto le sue dichiarazioni per noi. Marco Gullà, Palermo, sentiamo. Per anni non ha dormito. Appena chiudevo gli occhi mi ritrovavo la sua immagine davanti mentre tentava di ammazzarmi in strada a ogni auto che mi sorpassava. Pensavo fosse lui. La donna che vedete si chiama Lidia Vivoli, è palermitana ed è sopravvissuta a un tentativo di femminicidio nel giugno del 2012. Io nel 2012, dopo 5 mesi di relazione con una persona, andai a convivere con questo uomo che era un principe azzurro. Io facevo l'assente di vola e veniva alle 5 del mattino all'aeroporto solo per prendersi un caffè con me. Mi faceva trovare la cena pronta, mi veniva a prendere, a lasciare, sembrava il principe azzurro. Tutto potevo immaginare tranne che questa fosse una maschera. Una maschera caduta in una notte terribile per la povera Lidia. Con una scusa venne a dormire a casa mia perché lui pensò che i miei stipendi, i miei soldi, il mio denaro, se non fossero stati utilizzati da lui, non potevano essere utilizzati neanche da me. Allora di notte, mentre dormivo, mi cominciò a colpire come una padella di ghisa in testa finché si ruppe il manico e poi piugnalo con delle forbici, mi soffoco col filo della bajur, del ventilatore. Mi colpì in faccia prendermi la cazza sopra i cilai fino allo zigomo, mi ruppe il naso, il timpano, tre costole, lesione al tendine. Insomma, ha fatto tutto per uccidermi, io mi sono salvata sinceramente non so perché. Me lo sono chiesto tante volte perché mi sono salvata. A questo punto ho pensato che era giusto che io facessi qualcosa per le altre. E alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lidia vuole dare un consiglio a chi vive una relazione malata. Basta di dire soltanto la parola denuncia. Quando andiamo a denunciare vuol dire che è successo qualcosa di molto grave. Insegniamo alle ragazze, alla donna a riconoscere i segnali della relazione tossica, quelle le privazioni della libertà, il controllo, la vessazione, l'umiliazione e anche il controllo dei social, perché no, fammi contro il telefono, batti a lavare i piatti, l'umiliazione proprio della donna come essere inferiore. Loro reputano la donna non libera di scegliere. Allora se già noi in questa fase ci poniamo dei dubbi e li lasciamo, non avremmo bisogno di andare a denunciare. Ricordiamoci che ci sono donne come Giulia, come Elisa Bravi, che è la prima volta che hanno avuto le mani addosso dal proprio compagno, fidanzato, marito, è stata anche l'ultima. Se noi aspettiamo il primo schiaffo potrebbe essere l'ultimo, perché in molti casi siamo stati uccise durante la prima aggressione. È accusato di avere appiccato il fuoco alla casa della nonna della sua ex moglie, nella quale avevano vissuto insieme, dopo che la donna aveva rifiutato di dargli 60 euro. I carabinieri lo hanno arrestato, è un trentenne di jarre nel Catanese. L'uomo già denunciato nel mese di luglio per le continue vessazioni dall'ex moglie, dopo aver distrutto l'abitazione, sarebbe fuggito. Si terranno domani i funerali di Alberto Re, l'imprenditore che si è sparato un colpo alla testa. Intanto si indaga sui motivi del gesto e la famiglia lancia un appello che si apra una riflessione su quello che è accaduto, perché mai più ci si possa trovare di fronte alla tempesta senza vestiti. Laura Spanò. L'agrigente sotto shock, il re era molto conosciuto in città ed era uno degli organizzatori della 43esima edizione del Paladino d'Oro Sport Film Festival. Sui motivi del gesto che restano ignoti, stanno indagando, coordinando la procura di agrigento, gli investigatori della squadra mobile. Non è ancora chiaro, infatti, se le polemiche che nelle ultime settimane hanno investito il festival di cui il re era tra gli organizzatori, polemiche relative ai costi dell'iniziativa e la scarsa affluenza di pubblico agli eventi in programma, possono avere portato l'imprenditore a prendere la decisione di uccidersi. A raccontare chi era il re e la sua famiglia con una lettera, Alberto Re era un uomo amante della vita, delle belle parole, non amava infingimenti, ha fatto del garbo il suo stile di vita. I familiari scrivono anche che l'insano gesto è avvenuto in solitudine. Nessuno della famiglia era presente. Nella lettera si fa riferimento alle critiche delle ultime settimane. Sui social viaggiano sentenze di condanna senza nemmeno il capo di imputazione, dicono. Poi l'appello si apre a una riflessione su quello che è accaduto, perché mai più ci si possa trovare di fronte alla tempesta senza vestiti. I tentacoli della mafia sulle scommesse sportive. C'è stato un maxi sequestro di beni a due imprenditori che sono ritenuti vicini ai clan di Pagliarelli, Porta Nuova, Brancaccio e Noce a Palermo. Tonino De Mana. Beni per 43 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nei confronti di due imprenditori, il palermitano Salvatore Rubino, 62 anni, e Cristian Tortora, di 47, originario di Battipaglia. Secondo gli investigatori sarebbero i referenti di un sodalizio ritenuto vicino ai clan di Pagliarelli, Porta Nuova, Palermo Centro, Brancaccio e Noce. I due imprenditori sono stati arrestati nell'operazione Hull Inn insieme al boss Francesco Paolo Maniscalco, mafia che cerca di infiltrarsi nel lucroso settore della gestione dei giochi e delle scommesse sportive, secondo quanto ricostruito dai finanzieri del Gico, le imprese che facevano riferimento al boss Maniscalco, grazie ai rapporti con Cosa Nostra, avrebbero acquisito la disponibilità di numerose licenze e concessioni statali rilasciate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'esercizio della raccolta delle scommesse fino alla creazione di un impero economico costituito da società intestate a prestanome, un giro d'affari e volumi di gioco che in poco tempo avrebbero toccato 100 milioni di euro. I due imprenditori raggiunti dal provvedimento di sequestro sono stati condannati dal Tribunale di Palermo nel febbraio 2022, sentenza per Rubino e Tortora confermata dalla Corte d'Appello a luglio del 2023. Sequestrati tre immobili, tra cui una villa favignana, quote di 11 società con sedia Milano, Roma, Salerno e Palermo, conti correnti, titoli, polizie assicurative e buoni postali per un valore complessivo, come detto, di 43 milioni di euro. Davanti alla Commissione Nazionale Antimafia che si occupa della strage di Via D'Amelio, l'ex magistrato Antonio Di Pietro ha dichiarato mafiopoli e tangentopoli, sono due facce, della stessa medaglia. Giusy Lazzara. Un'audizione durata più di un'ora, quella di Antonio Di Pietro, davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia che si sta occupando della strage di Via D'Amelio. Di Pietro ha richiamato anche una relazione del Copasir degli anni 90 che ha riconosciuto che effettivamente c'era stata attività di dossieraggio nei confronti di magistrati della Procura di Palermo e Milano. Anni intensi per l'ex magistrato di Mani Pulite che dà la sua versione sulle ragioni che hanno provocato la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e racconta di quando incontra Palermo Borsellino al funerale di Giovanni Falcone e ha con lui uno scambio di battute. Adesso dobbiamo andare di corsa, dobbiamo fare presto, perché questo è il filo conduttore della sua audizione. Mafiopoli e tangentopoli sono due facce della stessa medaglia e già nel 1991 le indagini sulle tangenti raccontavano che c'era un boccino paritario tra politici e imprenditori mentre a Palermo chi non rispettava gli accordi faceva la fine di salvo Lima. Di Pietro ricorda ancora che Falcone, finché fu in vita, seguì passo passo la sua indagine a Milano a cui teneva moltissimo dandogli anche dei consigli devi seguire il denaro appalto per appalto un arrogatorio alla volta fai il capo di imputazione e poi stralcia. Poi arriva via D'Amelio dopo l'omicidio di Borsellino non mi aprì più con nessuno dice l'ex PM molti ritengono che Borsellino sia stato ucciso proprio per ciò che stava scoprendo su mafia e appalti. E poi dice ancora le differenze negli accordi fra le imprese e la politica nel resto d'Italia e lo scenario che si apre in Sicilia dove c'è il tavolino attorno al quale si edono gli imprenditori ma dove è presente anche la mafia. La polizia di Catania ha arrestato due rapinatori seriali Massimo Torre 43 anni Salvatore Emanuele Monaco 27 già detenuti per altra causa. Ai due si contestano quattro rapine aggravate una tentata commesse tra il 7 e l'11 novembre del 2022 a esercizi commerciali e passanti tra le vittime il gestore di un'area di servizio due rivendite di tabacchi e un uomo che aveva prelevato dei soldi da uno sportello automatico di poste italiane. All'identificazione dei due si è arrivati grazie all'analisi delle immagini di impianti di videosorveglianza delle varie zone. In Sicilia sarà un weekend tra temperature impicchiata e la neve sui rilievi. Dopo le piogge di ieri l'Etna innevato regala cartoline davvero belle spettacolari che affascino soprattutto i turisti per quanto riguarda il vulcano invece c'è anche un incremento dell'attività stromboliana. Ma sentiamo Emanuela Corsi. Scendono le temperature anche in Sicilia. Dopo le piogge abbondanti di ieri il weekend sarà tipicamente invernale. Secondo le previsioni domenica la giornata più fredda con la massima che sfiorerà ai 12 gradi e la minima che potrebbe arrivare a 2. Ma le temperature impicchiata non preoccupano soprattutto dopo il caldo eccezionale di quest'anno. È normale che sia così. che è caldo troppo anomalo quest'anno. L'aria è un po' più fresca. Più che altro si sta bene. L'importante è ovviamente che non fa brutto tempo forte. Era arrivato l'inverno finalmente. Eh quasi perché ancora due giorni è stato male oggi è una bella giornata. Il maltempo che ha colpito ieri la Sicilia ha riportato anche la neve sull'Etna regalando un risveglio spettacolare a catanesi e abitanti alle pendici del vulcano che oggi si presenta così. Ieri era piena di boschia non si vedeva nulla. Oggi invece è carissima bella. Uno spettacolo. Uno spettacolo un'immagine che affascina i residenti ma soprattutto i turisti. Meravigliosa quando ho visto l'Etna stamattina ho fatto prima cosa la foto e poi ho mandato quelli dei babà dei cannoli a tutti a fare i mordindidia a tutti quelli che quando avevano la briochina a Torino misera proprio. Sull'Etna non solo la neve ma anche la lava. Qui siamo a quota 2500 metri dove si può osservare l'attività esplosiva dal cratere di sud-est. Siamo in una situazione diciamo di non equilibrio del vulcano quindi non si può escludere che non può evolvere un altro fenomeno parossistico ma diciamo ma del resto questa è l'attività ordinaria che fa il vulcano quindi questo ci dobbiamo aspettare. Al momento nessun problema per l'operatività dello scale Tneo di Fontana Rossa. adesso ci occupiamo della lotta che il Comune ha intrapreso nei confronti degli incivili di quelle persone che gettano senza ritegno spazzatura in città in tutti gli angoli naturalmente quello che vi raccontiamo è anche l'esito di un piano importante partito proprio per cercare di arginare questo fenomeno. le telecamere che sono state installate hanno immortalato davvero tante immagini una su tutte richiama l'attenzione un'automobilista che scarica 12 sacchetti di spazzatura sul marciapiede per lui una denuncia penale in vista. Tonino De Mana. Ammende fino a 10.000 euro sequestro dell'auto e denuncia penale il Comune di Catania dichiara guerra gli incivili dei rifiuti nel tentativo di rendere più decorose le strade spesso ridotte a discariche a cielo aperto una svolta epocale intrapresa dal sindaco Trantino che sin dal giorno del suo insediamento sta lavorando per stanare chi senza scrupoli e senza pudore si sbarazza della spazzatura nel modo più vergognoso l'immagine simbola è quella che vi proponiamo per motivi di privacy oscuriamo la targa dell'auto e volto del protagonista che in pieno giorno in pieno centro storico entra in retromarcia parcheggia sul lato sinistro della strada neanche si degna di guardare evidentemente non gli interessa l'unico pensiero è quello di sbarazzarsi della spazzatura e quindi di svuotare l'auto alla fine saranno 12 sacchetti di rifiuti riversati spudoratamente sul marciapiede così dopo una lieve sfregatina le mani ecco che lo sporcaccione di turno si rimette in marcia come se nulla fosse non sa però che la sua viaccazione è stata immortalata da una delle tante telecamere fatte piazzare dal comune di Catania per lui scatterà una denuncia penale ed accertate le contestazioni verrà applicata una salata ammenda analoga sorte è toccata da altri sette incivili beccati dalla polizia municipale annesima inferiore Librino San Giorgio e San Giuseppe e l'arena tutti sono accusati di abbandono illecito di rifiuti sul suolo pubblico i trasgressori rischiano una multa da 1000 a 10.000 euro ed il sequestro del mezzo utilizzato per commettere il reato e torneremo sull'argomento tra poco dopo il termine del nostro telegiornale la stretta dunque sugli incivili che abbandonano la spazzatura per strada le prime multe i provvedimenti penali ma ancora il problema dell'incidenza sulla salute dei cittadini di microplastiche ratti amianto a Catania ecco dicevamo saranno questi gli argomenti dell'appuntamento del venerdì alle 14.30 con il sindaco di Catania Trantino nello spazio di approfondimento del focus di Telecolor con la conduzione del nostro direttore Michele Cucuzza per le vostre domande segnalazioni e perché no contestazioni potrete continuare a scrivere al nostro numero whatsapp 342 745 55005 mandare una mail sicilia24 focus chiocciolatelecolor.it appuntamento dunque alle 14.30 adesso ci fermiamo torniamo tra poco seconda parte di Sicilia 24 sarà necessario il secondo turno per conoscere il nome del nuovo rettore dell'università di Messina dopo la prima votazione vanno al ballottaggio i professori Michele Limosani e Giovanna Spatari dunque il totale di schede bianche nulla è stato 14 il dato finale avvantaggia Limosani al momento con 539 voti e Giovanna Spatari con 502 vedremo che cosa accadrà lunedì prossimo tiene comunque il gruppo che fa riferimento all'ex rettore Salvatore Cuzzocrea che ricordiamo è finito nello scandalo e nell'inchiesta sulle spese pazze dell'Ateneo che appunto tra le altre cose appoggia il professore Spatari e adesso ci occupiamo della CISL che domani terrà una manifestazione nazionale a Roma folta la rappresentanza anche dalla Sicilia sentiamo partecipare per crescere migliorare la manovra costruire un nuovo patto sociale e questo lo slogan della manifestazione nazionale che la CISL terrà a Roma nella giornata di domani e se la CISL non ha preso parte allo sciopero generale indetto da CGL e Will alcuni giorni fa lo farà quindi domani per chiedere al governo di migliorare soprattutto la legge di bilancio dalla Sicilia una folta rappresentanza in partenza per la capitale aprire con il governo un grande confronto per migliorare questa manovra finanziaria e per guardare anche alla definizione di un nuovo grande patto sociale che metta al centro la crescita e lo sviluppo del paese che traguardi le risorse che ci sono in campo per effettuare tutto questo non solo sul fronte nazionale la CISL chiede anche maggiore impegno al governo schifani al governo regionale stiamo chiedendo con insistenza di riavviare i confronti necessari per mettere in campo una vera proposta di visione di rilancio di questa regione partendo dal piano nazionale di resilienza alla governance al piano nazionale di resilienza abbiamo sottoscritto accordi per le ZES abbiamo avviato primi confronti sulle infrastrutture stiamo chiedendo con insistenza un confronto sulla sanità abbiamo da ridisegnare una proposta vera rispetto al sistema industriale della Sicilia Pullman che partiranno già stasera alla volta di Roma adesso ci occupiamo del tanto atteso Black Friday atteso naturalmente questo venerdì in nero ormai diventato una consuetudine per cercare di approfittare di sconti pazzi imperversano certamente gli sconti online e ad essere attratti particolarmente dalle iniziative del Black Friday che poi normalmente prosegue anche per tutto il resto della settimana sono donne e giovani sentiamo Francesco Aloi venerdì bianco sull'Etna venerdì nero per il commercio è il Black Friday il giorno dei grandi sconti secondo Confcommercio attira soprattutto donne e giovani guardate la vetrina a caccia di sconti sì in realtà sì ne approfittiamo per queste giornate conviene e quindi ne approfittiamo anche noi in realtà quasi tutti i negozi hanno esteso le offerte all'intera settimana così i siciliani ne approfittano per fare shopping risparmiando un po' tra i prodotti più acquistati i capi di abbigliamento seguiti dai dispositivi elettronici ho acquistato un maglioncino come ora però ancora sto andando a cercare altre cose che mi piacciono c'è convenienza? sì molto molto ma c'è anche chi ad un mese dal Natale coglie l'occasione per acquistare i primi regali lo fa un siciliano su quattro soltanto il 12% dice che è ancora presto mi sono resa conto che qualcosa si può acquistare e risparmiare dal Black Friday diventato Black Week al Cyber Monday che sarà lunedì prossimo un'occasione per i commercianti di vicinato ma anche online per vendere di più si attendono da questa giornata di scontri che consentono di andare a recuperare le perdite degli ultimi mesi in particolare nel settore della moto tutti a fare shopping quindi facendo sempre attenzione soprattutto per gli acquisti online ci fermiamo ancora c'è una breve pausa e poi ci occupiamo del calcio il calcio in chiusura di telegiornale intanto con il Catania di scena a Giuliano in una partita insidiosa contro una delle formazioni che stanno attraversando un buon periodo di forma sentiamo Francesco Triolo il bivio campano per continuare a viaggiare la trasferta di Giuliano per il Catania rappresenta l'occasione per dare slancio alla vittoria con la Turris e alimentare l'entusiasmo che l'arrivo di Lucarelli ha portato di fronte ci sarà una squadra che attraversa un ottimo stato di forma tre vittorie l'ultima in casa di Lavellino nelle ultime quattro partite un pareggio in casa del Benevento e nel centro campano è cresciuto l'entusiasmo tanto che si preannuncia una grande cornice di pubblico Samuel Di Carmine presenta così la gara noi arriviamo lì sicuri di noi stessi forti e dobbiamo pensare di essere una scuola operaia di lottare e di fare risultato perché noi dobbiamo fare più risultati possibili da qui alla fine è entusiasmo anche in casa Catania polverizzati i biglietti 500 a disposizione dei tifosi rossazzurri Lucarelli dovrà fare i conti con le assenze certe di Rizzo e Ladinetti il regia dovrebbe giocare Quaini confermando la scelta operata contro la Turris il tecnico ha provato tutta la settimana la difesa a 4 quindi è probabile che confermi il 4-3-3 anche per dare continuità di gioco di Giuliano Catania e delle possibili soluzioni tattiche scelte di formazione se ne parlerà questa sera in preview la trasmissione condotta da Marco Cardi che presenta il prossimo impegno del Catania con una finestra anche sul Messina a proposito del Messina domani pomeriggio ospiterà al Franco Scoglio la capolista Juve Stabia partita è complicata per i giallorossi che cercano riscatto dopo 4 sconfitte consecutive Sergio Colosi il Messina fa quadrato e sogna lo sgambetto alla capolista tecnico e giocatori hanno incassato la fiducia fino al mercato di gennaio del presidente Pietro Sciotto che prosegue la sua politica del risparmio la situazione però è delicata 4 sconfitte di fila contro Taranto Benevento Latina e Foggia terz'ultimo posto in una classifica che nella parte bassa ha già creato una spaccatura significativa l'avversario di domani è la Juve Stabia capolista sorpresa con due pareggi senza reti in altrettanti incontri casalinghi contro Foggia e Sorrento e al Franco Scoglio priva degli squalificati baldi del capitano Mignanelli e dell'attaccante Candellone con 4 reti e 3 assist fattori che potrebbero ridurre il distinto tra le due squadre di 18 punti maturato in 14 giornate a Giacomo Modica dopo esperimenti su esperimenti sempre falliti nelle ultime settimane il compito di fare cose semplici ed opportune come il ritorno in difesa di Ferrara con Polito a destra il rientro di Frisenne e la conferma di Franco e Firenze capitola a parte l'attacco restituito a Plescia e che non segna da 4 gare con limiti strutturali rilevanti come il resto della squadra ma per essere competitivi contro la US Tabbia serve il Messina ad inizio stagione Il telegiornale è finito a tutti voi grazie per averci seguito vi lascio tra poco con Michele Cucuzza in studio con il sindaco di Catania Enrico Trantino per il consueto appuntamento del venerdì appunto l'appuntamento con il sindaco a tutti un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti